Un saluto da Napoli verso Berlino, unite queste due città nella lotta per i diritti, contro il razzismo, per le libertà civili. Napoli si è schierata nel passato, si schiera oggi e si schiererà con i suoi abitanti per una comunità in cui la diversità è una ricchezza e in cui le libertà e i diritti o sono per tutti e tutte o non sono per nessuno. Di fronte al governo italiano che esortava la chiusura dei porti, noi abbiamo dichiarato che il porto di Napoli è aperto, aperto per salvare vite umane e non saremo mai complici di crimini contro l'umanità. Le città possono fare tanto, devono unirsi, so che a Berlino ci sono tante sensibilità così come a Napoli, dobbiamo unirci insieme per costruire l'Europa dei popoli, dei diritti, della giustizia sociale, dell'uguaglianza e della fratellanza, nella lotta contro il debito ingiusto, nella lotta contro le austerità, nella lotta contro un'economia globale che arricchisce pochi e aumenta le sofferenze di tante moltitudini. Insieme costruiamo un Mediterraneo di pace, di colore azzurro e non più rosso sangue, un Mediterraneo in cui i popoli si possano incontrare per costruire e difendere il pianeta e non scontrarsi per fare consenso al politicante del governo nazionale di turno. Arrivederci e speriamo di rivederci presto, unite Napoli e Berlino. Grazie. 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 Grazie.